E' ormai divenuto un atteso appuntamento con la solidarietà, quello organizzato ogni anno in piazza Duomo a Giarre dall'associazione socio-culturale Fare Comune. E di anno in anno un sorriso per Natale, giunto all'ottava edizione, riesce a regalare un po' di gioia ai tanti bambini ospiti delle numerose case famiglie del territorio. Siamo molto soddisfatti perché comunque ormai ci troviamo in una circostanza in cui la gente ci cerca ancora prima di iniziare. Stamattina veramente sono rimasto a bocca aperta perché c'era gente che ci aspettava già qui prima ancora di montare il gazebo. Quindi siamo contenti che la cittadinanza risponda bene a questa nostra proposta perché poi alla fine da otto anni che ci conoscono e sanno che ci impegniamo ogni anno di più per fare questa raccolta in maniera adeguata. Quindi siamo felici di quello che è il risultato ottenuto. E questi giocattoli quando e dove verranno consegnati? I giocattoli noi li raccogliamo anche oltre il giorno di oggi perché capita spesso che la gente ci chiama anche dopo e vuole darci ancora qualche cosa. E poi entro la vigilia di Natale noi dobbiamo obbligatoriamente consegnarli alle case famiglie che già abbiamo conosciuto nel territorio. Quindi sia quelle che già sono operative sia quelle che magari ci propongono altre persone che si avvicinano e ci danno dei consigli per poterli sfruttare al meglio e poter dare qualche sorriso in più ai bambini delle case famiglie. Ed anche quest'anno il territorio ha risposto con grande entusiasmo alla raccolta di giocattoli organizzata dall'associazione donando un numero impressionante di giochi per i bimbi di tutte le età. I giocattoli raccolti sono stati distribuiti in quattro strutture tra giarre di comuni limitrofi nella comunità Elios e nelle case famiglia Nazareth Maria Ausiliatrice Santa Chiara. Grazie. Grazie a tutti.